Un saluto a tutti, terzo appuntamento con la nostra rubrica Noi Reggio Emilia per Expo 2015. L'argomento che trattiamo questa volta è molto vicino al tema generale di Expo, l'alimentazione e i prodotti tipici del nostro territorio. Ai reggiani piace mangiare bene, si sa, i reggiani amano i prodotti che nascono dall'amore per la propria terra, la coltivazione dei campi, la cura dei vittigni, l'allevamento del bestiame, la trasformazione del latte e della carne sono attività antiche radicate nella nostra cultura. Di qui nascono prodotti e sistemi alimentari che Reggio Emilia ha fatto conoscere a tutto il mondo. Tipicità di cui possiamo essere orgogliosi, il parmigiano reggiano, l'aceto balsamico tradizionale di Reggio, il lambrusco reggiano, i nostri salumi, i cappelletti, i tortelli, l'erbazzone, il gnocco fritto. Tipicità che oggi vanno sempre di pari passo con qualità, sicurezza e sostenibilità ambientale. Reggio Emilia si impegna per una produzione alimentare che conservi la terra, l'acqua, l'integrità ecologica dei luoghi in cui viene prodotta. Che la buona cucina sia elemento fondante della nostra identità reggiana lo si capisce anche visitando la mostra Noi, storie di comunità, idee, prodotti e terre reggiane. Una sezione della mostra è intitolata Noi amiamo mangiar bene. Qui c'è un omaggio alla pasta fresca preparata dalle resdore. Elementi della nostra tradizione gastronomica oggi sono sapientemente interpretati da grandi chef come Gianni D'Amato del Caffè Arti e Mestieri, che in occasione dell'inaugurazione della mostra Noi ha imbandito la grande tavolata all'ultimo piano del Palazzo dei Musei. Ho preparato nella tavola delle sei meraviglie del territorio con parmigiano reggiano invecchiato 55 mesi, una chicca, il canossello che è un culatello di montagna, il pandare, poi abbiamo l'erbazzone contemporaneo, la spergola del territorio di Scandiano e Canossa e poi infine abbiamo l'aceto balsamico tradizionale bollino oro di Reggio Emilia. E al Palazzo dei Musei c'è anche Offi Cucina, una delle sedi di Food Innovation Program Master Interinternazionale su Cibo e Innovazione Tecnologica, una finestra aperta sul futuro del cibo, secondo Matteo Vignoli che coordina il gruppo di studiosi, una ventina di ricercatori provenienti da Mezzomondo. L'Emilia Romagna incorpora tutti i valori che ci sono nella nostra terra, è una regione che accoppia alla grande biodiversità, il numero più alto di prodotti DOPGP in Italia e qui da noi, una tecnodiversità che permette di sviluppare al meglio le potenzialità dell'accoppiamento della parola food alla parola innovation. E un posto dove ci sono tutto dal punto di vista del cibo si unisce a un posto dove c'è tutto dal punto di vista delle tecnologie che al cibo sono accoppiate. In questa terra non solo c'è questo substrato ma c'è la passione e il talento delle istituzioni e delle persone che sanno mettersi in gioco e creare insieme qualcosa di nuovo. Se la gastronomia reggiana ha le sue radici soprattutto nelle cucine del Resdore non possiamo dimenticare i prodotti di eccellenza che hanno una lunga storia come il parmigiano reggiano. È da 900 anni che il re dei formaggi si stagiona sul nostro territorio. Un consorzio ne garantisce la qualità a partire dagli ingredienti, sempre gli stessi, latte, caglio e sale. Il consorzio del parmigiano reggiano nasce nel 1934, associa tutti i caseifici che producono oggi il parmigiano reggiano e con le stesse ragioni di allora si tende oggi a cercare di emancipare ulteriormente la nostra attività. Quindi l'attività principale è quella della tutela, della vigilanza e della promozione del prodotto sui mercati nazionali e sui mercati internazionali. Un aspetto che è assolutamente importante riguarda la tutela della produzione e soprattutto la vigilanza sul mercato a beneficio dei nostri consumatori. Un aspetto assolutamente significativo per l'attività del consorzio riguarda la promozione del prodotto, ossia il fatto che un'eccellenza non possa essere diffusa soltanto attraverso delle comunicazioni che vadano nella logica degli spot pubblicitari, ma che il prodotto invece venga narrato, vengano specificate le sue caratteristiche e soprattutto diventi un prodotto per intenditori, proprio per il fatto che ha delle caratteristiche di rinomanza assolutamente straordinarie. Pensiamo che in futuro il modo per promuovere il nostro prodotto sia quello di far entrare nella conoscenza del consumatore quelle caratteristiche che lo differenziano di legame con il territorio, tant'è che gli animali nascono nel nostro territorio, il latte viene prodotto esclusivamente nel nostro territorio, l'alimentazione esce principalmente dal territorio di produzione. Il prodotto confezionato nel territorio affinché vi sia la maggior garanzia possibile rivolta ai nostri consumatori in termini di qualità e di apprezzabilità del prodotto, ma soprattutto di sicurezza del loro acquisto. E c'è anche chi è riuscito a replicare su larga scala la qualità e la tradizione gastronomica reggiana. Stiamo parlando di CIRFOOD, il grande gruppo cooperativo a cui Expo 2015 ha affidato la gestione dei servizi di ristorazione per i suoi valori e per la qualità della proposta che bilancia tradizione e innovazione. E' chiaro dunque che l'eccellenza dei prodotti alimentari reggiani si mantiene nel solco della tradizione ma anche della qualità certificata. Come sottolinea Mario Zanoni dell'organismo controllo qualità produzioni regolamentate? Voi sapete che in provincia di Reggio Emilia ci sono due denominazioni d'origine che sono il parmigiano reggiano e l'aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia e tutte e due vengono controllate e certificate secondo una normativa che è riconosciuta dalla comunità europea. Il consorzio dà le direttive e l'organismo di controllo, in questo caso noi, facciamo i controlli per vedere che il disciplinare del parmigiano reggiano si è applicato presso tutti i punti della filiera, cioè caseifici, allevatori, stagionatori, vertugiatori eccetera. Quindi noi facciamo questo tipo di controllo e anche l'aceto balsamico ha un organismo di controllo e fa questi tipi di controlli. In provincia di Reggio i prodotti di qualità sono numerosi, soprattutto quelli di salumeria hanno dato anche la tradizione, pensiamo al salame fiorettino, alla pancetta canusina eccetera e anche all'erbazzone che a me personalmente piace molto. In generale tutti questi prodotti hanno una tradizione di qualità, però solo due vengono controllati in questa maniera, i nostri due DOP. E questi due DOP hanno una particolarità che li distingue dalle altre DOP italiane o perlomeno questa provincia ha questa distinzione che le due DOP principali, le due uniche DOP, sono controllate anche tramite l'analisi sensoriale, quindi controllate anche tramite una degustazione ufficiale per stabilire se il prodotto ha le caratteristiche volute. Assaggiando il prodotto stabiliscono le singole caratteristiche e poi abbiamo un quadro complessivo dal quale vediamo se il prodotto ha le caratteristiche desiderate o meno. Questa volta la nostra rubrica Noi che storia è dedicata a un uomo che ha speso tutta la sua vita per la rossa, la vacca rossa. Si chiama Luciano Catellani, la sua è stata una vera e propria battaglia in difesa di una razza bovina a rischio di estinzione. Con la sua passione e il suo impegno è riuscito a salvarla e a ottenere il riconoscimento di produzione d'eccellenza. La vacca rossa è una storia di famiglia, fu mio nonno di inculcarmi le caratteristiche di questa razza e della qualità di questo formaggio che si faceva un tempo. Questa è una razza autotona della provincia di Reggio Emilia che giunse nelle nostre zone dopo la caduta dell'impero romano con i Longobardi. Poi nel 1200 i Manosibedettini misero a punto la ricetta per fare il parmigiano reggiano utilizzando il latte di questa razza ed è considerata a tutti gli effetti la madre del parmigiano. purtroppo sostituita negli anni 50, alla fine degli anni 50 perché è considerata poco produttiva. Tant'è vero che nel 1980 ne rimanevano poco meno di mille capi. Fu allora che io l'ho presa per mano e assieme ad altri pochissimi allevatori cominciamo a valorizzare le caratteristiche di questa razza. Nel 1991 abbiamo fondato il consorzio di valorizzazione di questa razza e di lì ha cominciato a fare il parmigiano che è stato apprezzato da estimatori. Furono anni molto difficili perché la gente ci prendeva in giro e ci derideva. Ma poi con la qualità di questo prodotto siamo riusciti a sfondare. Tant'è vero che oggi è considerato il top del parmigiano ed è conosciuto in tutto il mondo. Attualmente da meno di mille capi si contano 3500 capi e si fa una produzione di circa 14.000 forme all'anno. Oltre al parmigiano con questa razza si fanno anche altri prodotti, il burro, la ricotta, ma anche yogurt, pane cotte, stracchino, mozzarella, griscini al parmigiano, i primi piatti fatti con tutti gli ingredienti della vacca rossa, ragù, patè di fegato e in ultimo anche un culatello cotto con il parmigiano reggiano che è una delicatezza, una prelibatezza. È stata una grande soddisfazione riuscire a portare a termine questa impresa. È stata all'inizio molto dura ma alla fine ce l'abbiamo fatta e siamo stati vincenti. E chiudiamo come sempre con i consigli sugli appuntamenti della prossima settimana. Per i ritardatari c'è ancora tempo fino al 28 giugno per vedere a Palazzo Magnani Piero della Francesca e il disegno tra arte e scienza. Venerdì 26 giugno al Teatro Valli concorso enologico Matilde di Canossa a Terre di Lambrusco. Per gli appassionati dalle 19.30 sarà possibile degustare i vini premiati. A Palazzo e Piazza Casotti sino alla fine di ottobre le Contrade di Bengodi, festa delle eccellenze d'Italia. Per un sabato del tutto particolare c'è insieme alle stelle cena in bianco in centro storico. Sempre sabato 27 giugno notte bianca a Correggio. In chiusura vi ricordiamo la visita al Palazzo dei Musei di Noi, storie di comunità, idee, prodotti e terre reggiane. E per il programma completo di Reggio Emilia per Expo vi invitiamo a consultare il sito www.reggioexpo2015.it Noi ci rivediamo la prossima settimana.